Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerous che io sono Rob e oggi per i più incalliti ma soprattutto per coloro che si stanno avvicinando al gioco e vogliono immergersi e conoscere qualcosa di più parliamo di Escape from Tarkov e di alcuni siti, altri ve li avevo già mostrati in passato, che possono risultare estremamente utili per ciò che cercate ovviamente prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi video se volete seguirmi in live su Twitch mi trovate all'indirizzo twitch.tv slash dangerous che è lì tutta la programmazione per potermi seguire in live allora bando alle ciance e iniziamo allora apriamo subito con questo sito che si chiama eft.monster principalmente questo sito viene utilizzato per avere una disamina, una panoramica di quelli che sono i proiettili o meglio tutto quello che riguarda il mondo del come uccidere un altro giocatore perché in questa schermata abbiamo la possibilità di vedere tutti questi triangolini, i rombi eccetera che non sono altro che le munizioni e i proiettili che troveremo in giro all'interno del gioco alcuni sono considerati bloatware quindi semplicemente messi là per confondere altri invece sono considerati estremamente utili per analizzare questa classifica, questa grafica abbiamo a sinistra la penetrazione del proiettile a livello di valore da 0 a 70 in basso quindi l'asse Y è la penetrazione l'asse X invece è il danno che viene fatto da questi proiettili e a salire a destra vediamo le categorie di armature che possono appunto essere penetrate da questi proiettili qua come vedete partendo dalla parte più bassa abbiamo i War Mage 556 la cosa molto bella di questo sito è che passando sopra con il mouse abbiamo la possibilità di leggere le caratteristiche relative al proiettile che quindi fanno fede anche sia al punto in cui sono posizionati all'interno della chart ma soprattutto abbiamo un riscontro visivo con quello che è il loro loghetto che è appunto quello che ci permette di avere subito un facile riconoscimento all'interno degli inventari dei vari trader per appunto dire wow questo l'ho visto nella classifica è buono o meno ed è addirittura a seguito c'è persino la wiki che ci spiega come ottenere i War Mage quindi devo dire un ottimo lavoro la chart si basa su quella di No Food After Midnight che è uno streamer che tiene cura di un documento Excel dove è presente appunto la classifica sempre aggiornata dei proiettili che sappiamo subiscono tante variazioni durante le patch ebbene così infatti a salire come potete vedere qua c'è un insieme di proiettili che questa sorta di onda verso l'alto mette decisamente in luce a paragone la similarità passatemi il termine la similitudine scusate comunque l'efficacia dei proiettili sia 5.56 che anche i nostri carissimi 5.45 per il tanto amato AK infatti qua partiamo con i War Mage se non sbaglio si chiamano War Mage ok del 5.56 quindi compatibili con i nostri fantastici AR a salire fino a su abbiamo le varianti più amate tra cui 7.39 che però hanno un danno veramente minimo ma un'altissima penetrazione di qualsiasi tipo sulla testa tanto che vediamo che battono le armature di classe 6 sulla testa armature di classe 6 sulla testa abbiamo solo se non sbaglio lo slap da mettere sopra i vari elmetti tipo il Bastion se non ricordo male e i 995 che sono tanto amati dagli utilizzatori appunto di M4 ed HK prezzi proibitivi per il 995 meno proibitivi per il 7.39 ma parliamo di spiccioli gli AP che sono quelli diciamo preferiti per gli utilizzatori appunto dell'M6 hanno 46 di danno quindi insomma armatura di livello 5 bucata quasi alla 6 46 di danno quindi teoricamente dovrebbero essere ottimali quasi meglio di 995 e 7 nel 39 che in realtà vengono preferiti dai più comunque a parte queste che poi la gente giustamente sceglie quelli che più ama qui abbiamo i proiettili relativi a tutto il mondo ASVAL e VSS quindi abbiamo i BP gli SPP a volte c'è confusione tra questi due proiettili qua cioè ad esempio BP ed SPP molti li confondono diciamo che i migliori tra due ragazzi BP come per i 7.62 come per 39 vale VSS BP quindi in questo caso qua abbiamo l'ottimale ovviamente il prezzo qua prezzo folle BP invece per quanto riguarda i nostri cari fucili AKM quindi 7.62 per 39 BP attualmente è il meglio che c'è sul mercato abbiamo pochissimi proiettili di questo tipo dovrebbero aumentare la quantità di questo genere di proiettili perché sinceramente oggigiorno non è che c'è granché ne abbiamo un paio nuovi integrati di cui uno non serve a un cazzo meno male questo è quello che a noi ci piace infatti gli 7.62 qui abbiamo i T45M i PS gli US gli HP non vedo quelli nuovi i SOS ci sono ma non vedo gli altri cosa sono? aspetta non mi pare di vederli perché questi gialli si AKM SKS AP che comunque hanno pochissimo danno rispetto ai BP no i BP scusate qua i BP qui ecco questo tipo di BP di 7.62 in questo caso sono buoni per bucare armature di classe 4 AP fico perché bucano classe 5 ma hanno molto meno danno parliamo verso la testa in questo caso qua mentre per il petto tutti vorrebbero un proiettili che sta tipo qua ragazzi tutti lo vorrebbero non ci sarà mai insomma in questo caso qua stiamo parlando di danni alla testa in quest'area danni al petto in quest'area qua danni al petto in quest'area al top ci sono le ultra nozzler che però fanno danno solo all'armatura di classe 1 quindi dobbiamo beccare veramente gente vestita con gli stracci altrimenti na nisba nada ovviamente in quest'area ci sono le munizioni preferite da tutti tranne che da Jab e non volevo dire con le 993 che costano un occhio della testa potremmo trovarle ogni tanto nei magazine di qualche boss 7n37 amate dai cecchini Mosin ed SVD quindi Mosinman 7n37 ma non li vedo acquistati non ma vedo le persone si fermano sulle 7n1 principalmente e gli m61 che ovviamente sappiamo essere la cosa più desiderata da tutti 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 in assoluto ok ma andiamo avanti questa ve la lascio esplorare ft.monster è sicuramente una piattaforma che può interessarvi anche perché qui abbiamo altre particolarità come ad esempio il quest 3 che ci permette di vedere tenere nota delle quest che abbiamo completato o meno che quindi possiamo seguire così da non perderci per capire dove dobbiamo andare ce l'abbiamo appunto per therapy gear proper peacekeeper meccaniche tutti ed è una cosa molto molto carina qui abbiamo anche la possibilità di guardare le chiavi che possono essere utili meno utili chiavi di quest eccetera sempre da tenere d'occhio in questo caso cash money come potete vedere che valgono al flea market quindi dategli un'occhiata è un sito che merita davvero davvero tanto a seguire invece se volete avere una panoramica su quelli che sono i prezzi del mercato e attenzione non sono precisissimi questi ma possono essere un inizio sono il sito di talk of professional che ci permette di dare un'occhiata ai valori del mercato magari degli oggetti che in questo momento vogliamo vedere in questo caso sono gli oggetti che hanno più o meno valore ma a volte ci sono problemi con il trader price il trader price non è veritiero quindi questa cosa serve purtroppo porta via quello che è l'equilibrio del valore del mercato ovvio che questo è un problema relativo al fatto che si appoggia all'API di talk of market e talk of market ve l'ho fatto vedere già in un video precedente tratta di tantissime cose del flea market eccetera e donando con il patron praticamente possiamo verificare in tempo reale la fluttuazione del mercato utilizzare cose molto utili come il barter calculator che ci permette di capire quanto andremmo a risparmiare comprando un oggetto con il baratto invece che con i soldi veri quindi dategli un'occhiata se volete supportate i ragazzi di talk of market perché fanno davvero un ottimo ottimissimo lavoro soprattutto ora che ci sono questi sbalzi sul mercato come il bitcoin eccetera in questo caso vedete qua sono i prezzi in generale degli oggetti che hanno subito delle variazioni istantanee vedete il 400% nelle 24 ore del cappellino floor army cap e così via ultima cosa che vi voglio far vedere ed è strasuper bella questa la tengo d'occhio ormai da anni ftdb.one che è un sito che si utilizzava in passato per fare le build delle armi ora è stato rinnovato e può darvi davvero tante soddisfazioni se non avete sbatta di accedere al gioco mettervi a smanettane con i preset qui avete la possibilità di dare un'occhiata a tutte le armi del gioco ovviamente dategli il tempo quando si tratta di fare aggiornamenti fare delle prove su suddette armi ad esempio se io volessi mettere mano e fare dei test sull'equipaggiamento di una KPS 74U a parte che abbiamo qui tanti valori che ci interessano dall'accuracy vertical recoil con tanto di descrizione e quant'altro abbiamo la possibilità di scoprire quali proiettili e dove comprarli quando comprarli a che livello e così via ma soprattutto abbiamo la possibilità di simulare del modding per poi avere un risultato qua ok? quindi abbiamo la possibilità di scegliere che so il magazine il pistol grip fare diciamo una mostruosità che magari a noi interessa ok? adesso ci mettiamo questo l'accrocchino devo mettergli la roba brutta che ci piace cioè proprio sto facendo una mostruosità ragazzi una reale una vera e propria mostruosità ovviamente non tiene conto degli oggetti sommati non c'è ancora il on off in base a cosa metti quindi fate attenzione abbiamo la possibilità di mettergli che so davvero davvero tutto ragazzi non potete davvero mettere qualsiasi cosa dopodiché alla fine vedete una somma di quello che è il risultato finale con i proiettili ergonomia accuratezza cioè accurasi quello che è quindi ecco è qualcosa che a mio avviso può essere davvero davvero carino se non avete sbatto di accedere sempre al gioco eccetera ma avete bisogno di fare una configurazione al volo senza problemi di sorta venite su questo sito eftdb.one e date un'occhiata ovviamente a tutta questa bellissima roba io ve lo straconsiglio anche qui come vedete è in costruzione però potete già consultare ad esempio alcune cose interessanti del gioco in questo caso cliccando su attachment potete vedere è un po' come appunto un flea market ma che vi dà le informazioni che davvero vi servono come scoprire al volo senza dover ogni volta consultare con una ricerca a quale livello a comprare determinato oggetto il prezzo del mercato quanti colpi contiene il magazine e il valore al vero di ergonomia accuracy recoil velocità quindi veramente ragazzi finite qua fate le cose fighe e via così presto arriveranno anche le mappe a quanto ho capito nella landing page anche spiegato che cosa sta succedendo cosa stanno facendo e in che direzione vogliono andare i ragazzi di ftdb anche qui se volete supportare buy me a coffee secondo me stanno facendo davvero un ultimo lavoro e ne vale la pena tornando a noi spero di esservi stato utile sì questi sono dei video esemplificativi ma servono a voi che magari state entrando nel mondo di tarkov di recente a scoprire qualcosa in più a sentirevi più sicuri a scoprire delle risorse che magari altre persone consultano da anni e non ve lo dicono ma non per cattiveria perché magari lo danno per scontato o non ci pensano quindi fate un salto su questi siti vi li lascio in descrizione qua sotto nel video grazie ovviamente del vostro tempo ragazzi come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video se volete supportarmi direttamente trovate tutto qua nella descrizione come al solito grazie del vostro tempo signori e noi ci vediamo sul campo grazie a tutti grazie a tutti